Ok, allora iniziamo dalla... qui su queste slide qui salterò un po' avanti e indietro perché come sempre la prima settimana si cerca di, diciamo così, anticipare gli argomenti che serviranno nella prima esercitazione, poi quello che saltiamo adesso ovviamente lo riprendiamo più avanti. Allora, sistemi informativi, di che cosa stiamo parlando? Proviamo a dare una definizione fatta un po' bene. Ah, la cosa che non ho detto è che le slide nostre sono tutte in inglese. Parliamo italiano, ma il materiale lo scriviamo in inglese. Non avete il diritto di lamentarvi su questo, perché formalmente lo sapete tutti in inglese. E praticamente lo dovete sapere, quindi è un buon esercizio. Allora, un sistema informativo, citiamo una definizione ampia. qui è definito come un sistema che memorizza ed elabora informazioni utilizzate dalle organizzazioni. Qui c'è il termine organizzazione per comprendere azienda, l'ente, i servizi, eccetera. Allora, detto così, elaborare, far circolare, modificare e memorizzare informazioni è un'operazione che non necessariamente richiede un computer, non necessariamente è basata su un computer. Può comprendere la segretaria che archivia un foglio in un faldone di carta, oppure io ti mando un fax con l'ordine, oppure in una riunione si decidono certe cose e si prende nota di queste decisioni. Ecco, è sempre bene quando si parla di informazione, che questa informazione abbia una forma tangibile, cioè sia rappresentata da qualche parte, non sia semplicemente detta. Verba volant. Anche se purtroppo tante volte lo è. E anche questa informazione detta fa parte dei processi dell'azienda. Il capo mi ha detto così, zitto e faccio. C'è scritto no, però me l'ha detto, mica voglio farmi licenziare. E quindi ci sono molti processi che purtroppo devono gestire informazione che non è strutturata da nessuna parte. Questo quando si parla di sistema informativo. Quindi, a che vedere con tutta la circolazione delle informazioni, e le informazioni circolano con dei processi, vengono dette da tizi o a caio per un motivo, devono regolare, attivare, disattivare certe azioni, ti arriva un'informazione e quindi inizia a fare un lavoro, oppure quindi termini, oppure quindi modifichi. Quindi sono informazioni che hanno impatto sull'aspetto produttivo dell'azienda, e queste informazioni possono circolare in varia forma. Poi noi siamo più interessati, ovviamente, alla seconda definizione, questo CB davanti, sempre computer-based, sistemi informativi computer-based sono quelli che memorizzano e gestificano le informazioni attraverso l'utilizzo di mezzi e strumenti informatici, computer, insieme di computer, server, terminali, utenti, tablet, desktop, insomma, tutta la famiglia dei prodotti informatici, hardware e software, che sono ovviamente un sottoinsieme del sistema informativo più grande. Quindi a volte lo possiamo chiamare sistema informativo e sistema informatico, che è un pezzo di, non è tutto. Un sistema informatico da solo non fa niente se non ci sono le persone che gli mettono dentro le informazioni, le persone che le leggono e agiscono in conseguenza delle informazioni che trovano lì dentro. Un Facebook senza utenti non è niente. Ciò che conta è l'inserimento di alcune funzionalità gestite da un sistema informativo all'interno di processi più ampi, che poiché stiamo parlando di sistemi informativi aziendali, saranno processi aziendali. A volte si chiama parla anche di Enterprise Information System, la sigla è E-I-S. Se andiamo a prendere, sempre giocando intorno alla definizione, per restare nei vari aspetti, la definizione dell'Odon, quel tomone di cui vi ho detto, parla, a livello del sistema informativo, di una serie di componenti collegati tra di loro, e quindi già comincia a emergere un aspetto di modularità, o di divisione dei ruoli. Il sistema informativo non è un blocco unico, non può esserlo. E questi componenti lavorano insieme, quindi in qualche modo si devono parlare, per gestire le informazioni, quindi raccoglierle, elaborarla, memorizzarla, e distribuirla, rendela pubblica. Che cosa? Per elaborare, elaborare, memorizzare, disseminare, le informazioni, informazioni, informazioni le quali supporteranno delle altre azioni, quindi la presa di decisioni, quindi prendo decisioni sulla base di, non del oroscopo, ma di informazioni che ho ricevuto, coordino dell'attività, controllo dei processi, analizzo dei dati, visualizzo, eccetera, all'interno dell'organizzazione. Quindi operazioni in cui si frullano dei dati, affinché questi risultati, questi frullati di dati, numeri, informazioni, servano per poter supportare l'esecuzione dell'attività in azienda. Quindi non è fine a se stesso, il sistema informativo, ma serve a supportare meglio l'attività primaria dell'azienda. Poi oggi, nell'era, diciamo così, della società dell'informazione, ci sono aziende il cui fine primario è quello di elaborare informazione. Andiamo dall'azienda di media, per dirne una, social network, comunicazione, il cui fine è generare e distribuire informazione. Ma se invece rimaniamo, o più in generale, consideriamo anche il campo, ad esempio, delle aziende produttive, il manufatturiero, ad esempio, i servizi, ebbè, il fine ultimo dell'azienda è produrre prodotti o erogare servizi. Nel far questo, si fa aiutare, chiaramente, alla gestione dell'informazione. Dicevo, sono per forza componenti o moduli che devono collegarsi, integrarsi, ma devono essere separati e separabili, semplicemente per una questione di scala, di complessità. Le esigenze del sistema informativo cambiano. Le esigenze che ho quest'anno non sono quelle che avevo cinque anni fa e non sono quelle che avrò tra tre anni. Quindi, non posso pensare praticamente mai delle soluzioni monolitiche. Ok, lo faccio fare su misura e poi non lo tocco più per vent'anni. Non succede in nessun campo. Pensate anche solo alla parte fiscale, finanziaria del vostro sistema informativo, la gestione dei bilanci, gli investimenti, eccetera, che ogni due mesi, quando va bene, arriva una norma nuova e quindi devi cambiare la modalità con cui tratti certe cose. Non puoi pensare di andare a toccare tutto il sistema informativo compreso la parte di gestione della produzione perché ha cambiato la norma fiscale. Quindi, questi sistemi informativi devono avere vari moduli, ciascuno di quelli si occupa della propria parte, del proprio pezzettino e poi devono comunicarsi perché la parte finanziaria dovrà ben fatturare in funzione del numero di pezzi che sono stati prodotti. Quindi, quell'informazione di cosa ha prodotto e quanto e a chi lo ha spedito deve circolare tra i vari moduli. Può circolare dentro il sistema informativo se il sistema informativo è ben integrato. Può circolare al di fuori il sistema informativo, cioè, nella produzione mi fanno una stampata che porto a manina o in bicicletta in amministrazione e da lì fanno le fatture. Sono valide entrambi i casi. Cosa è meglio? Non lo so, dipende dai tempi, dai costi, dal tipo di azienda che ho. Però l'importante è che questa informazione esistano moduli o componenti specializzate per le varie funzioni e tra di loro, quindi ciascuno che si è specializzato possa evolvere in funzione delle esigenze specifiche di quella funzione che poi sono legate alle funzioni aziendali molto spesso e poi l'informazione possa circolare tra l'una e l'altra. Ok? Che non è molto diverso dall'immaginarsi l'organizzazione dell'informazione in un mondo senza informatica. A livello alto si cerca di mappare quella che è l'organizzazione aziendale. Poi magari con degli strumenti che sono più efficienti. quindi è qui un po' dove troviamo la differenza tra un sistema informativo e un sistema informatico. Un sistema informativo non solo hardware e software ma contiene anche la conoscenza cioè gestisce la conoscenza la conoscenza tecnica di che cosa fa l'azienda cosa produce la conoscenza organizzativa di come organizzate e quali sono i suoi processi. Cioè una volta fatta questa informazione una volta calcolata una volta ottenuta questa informazione a chi deve andare? Quando? Questo processo quando può partire? Queste sono tutte conoscenze organizzative che il sistema informativo deve conoscere. Mentre invece il sistema informatico esegue semplicemente dei programmi senza capire perché. Per noi il sistema informativo vorremmo riuscire a dare per il fatto che il sistema informativo comprende anche le persone che ci lavorano avrà la conoscenza del perché succedono le cose e quindi la visione è un pochino più ampia. Noi quindi ci ovviamente non puoi subappaltare le persone subappalti la realizzazione del sistema informatico nella nostra idea di fare un contratto per far realizzare un sistema però quindi l'oggetto del subappalto sarà il sistema informatico ma nella sua progettazione deve tener conto necessariamente delle persone quindi vedrete che noi lavoreremo spesso all'interfaccia tra persona e macchina non intesa solo come interfaccia utente anche un pochino ma sul fatto ci chiederemo tante volte ma gli utenti cosa vedono cosa fanno cosa percepiscono chi fa cosa nei confronti della macchina poi per fortuna non ci interessa tanto come la macchina fa a eseguire i comandi ma il fatto a chi gli era chiesto sì e a chi arrivano i risultati anche quindi dovremo modellare anche un pochino di ciò che fanno le persone che saranno informazioni per noi di contesto descrittive non prescrittive perché non è che posso scrivere al mio consulente che voglio una persona che faccia questo queste sono le mie persone che faranno ciò che sperabilmente devono ma devono sapere quali sono le azioni delle persone per poter costruire il sistema quindi questo è la se non vediamo la sfida in più per quale è necessario avere la conoscenza organizzativa che è quella che dovreste avere voi in un'azienda e non solamente la conoscenza tecnica potete avere il tecnico migliore di questo mondo ma se non sa come funziona l'azienda vi farà sempre un software che fa schifo un software che si farà un sistema informativo che si farà odiare dei propri utenti perché funziona in modo diverso da come funziona l'azienda e di esempi di questo genere ce ne sono tanti ecco qui noi usiamo cerchiamo di usarlo coerentemente in tutto il corso quasi sempre il termine organizzazione e non azienda o enterprise perché il termine azienda di solito è associato al profitto essenzialmente cioè a svolgere certe attività per un profitto di mercato che non c'è nulla di male ma i ragionamenti che facciamo noi sono più ampi si applicano non solamente alle aziende ma anche agli enti pubblici il governo enti no profit eccetera per cui usiamo in termini un'organizzazione che cerchiamo di definirlo come molto ampio cioè qualunque entità che svolga dell'attività abbia uno scopo che questo scopo abbia degli obiettivi che siano o non siano diciamo così economici poco ci importa no? alla fine quando il sistema operativo gestisce un numero che quel numero siano euro siano pezzi o siano persone a lui non interessa quindi i ragionamenti che facciamo di tipo progettuale valgono in senso ampio questo disegno probabilmente l'avete visto il primo anno di Politecnico quando abbiamo fatto il corso di informatica la parte informatica che cos'è? è una cosa che si beve degli input e sputa fuori degli output no? solo che lì il focus ovviamente era realizzare il programmino in C che stampasse l'elenco di 12 numeri dispari o quello che era ecco adesso il nostro focus è all'esterno cosa ci sta intorno a questo da dove arrivano gli input chi li fornisce dove vanno gli output chi li vede e il fatto che il sistema informativo generi certi output che effetto ha sull'organizzazione e quindi di fatto quali nuovi input genera per il sistema questo è ciò su cui stiamo ragionando non come fare il programmino che o il programmone che faccia una certa cosa ma qual è l'ambiente in cui vive questo sistema informativo quali sono le interazioni che quel pezzo di tecnologia ha con ciò che sta intorno quindi noi vediamo tre livelli scatolati uno è quello più basso quello del sistema informativo propriamente detto poi che vive dentro il contesto organizzazione che ha le sue logiche le sue funzioni le sue persone la quale vive all'interno di un ambiente più ampio che è l'ambiente della società fatto di fornitori fatto di clienti fatto di concorrenti fatto di normative fatto di azionisti che non questi signori all'esterno non vedono non usano direttamente il nostro sistema informativo ma vedono come input e come output l'attività dell'azienda della nostra organizzazione e quindi indirettamente però in qualche modo la loro presenza e le loro azioni intervengono quindi questo è il contesto generale in cui immaginiamo il ruolo svolto da questo oggetto questo blocco di tecnologia questo insieme di hardware e software però visto nel contesto più ampio ecco in questo sempre la lettura più ampia conviene far subito una distinzione tra quelli che sono i dati e le informazioni poi ci sarebbe un livello più alto che quello della conoscenza che però non tocchiamo oggi i sistemi informatici quindi computer manipolano dati cioè numeri fatti oggi è mercoledì questo è un dato oggi celezione è un'informazione che io posso estrapolare dal dato conoscendolo il contesto oggi è mercoledì e il contesto è che io sono uno studente sono iscritto a generale gestionale allora quell'informazione quel dato che di per sé non vale niente sapere che è mercoledì assume un significato l'ho interpretato nel contesto quindi l'informazione è un dato letto in modo che abbia un significato per gli umani per gli utenti del sistema e sappiano che cosa devono farci tu arrivi al sistema e ti dici oggi è mercoledì e dici beh ieri era martedì bravo però è un dato inutile un dato inutile fin tanto che non dà all'utente del sistema all'umano al destinatario informazioni su ciò che deve fare su ciò che ha fatto eccetera quindi ovviamente i sistemi sono macchine lavorano con dei numeri dei dati dei tipi di dati delle stringhe delle date degli orari delle quantità delle unità di misura sempre numeri sono sono grosse macchine per macinare dati lo sforzo nostro sarà quello da progettisti di fare in modo che questi dati assumano la valenza di informazioni quindi abbiano un significato utile a chi deve utilizzare quindi anche lì sempre nel progettare l'interazione tra l'utente e il sistema ci chiediamo che informazioni deve dare la persona che informazioni la propria identità quali sono i dati che descrivono queste informazioni ah beh il nome il cognome il codice fiscale eccetera eccetera e lavoriamo sempre a questi due livelli il significato delle cose e poi la struttura la sua rappresentazione concreta i dati di cui è composta quindi già cominceremo subito appunto da domani a ragionare sul livello dell'informazione quindi riuscire a estrarre e astrarre da una situazione quelle che sono le informazioni principali i concetti principali senza perdersi i dettagli di tutti i dati di tutti i numerini che ti servono che chiaramente servono anche quelli è necessario specificare anche quelli ma sono su un livello diverso quanto è l'informazione percepita dall'utente il valore di questa informazione percepita dagli utenti del sistema è un conto appunto sono i numerini con cui questi sono rappresentati ecco io fatemi fare un salto avanti poi riprendiamo questo discorso la settimana prossima a questo punto quindi per chi avesse siamo dalla parte del slide 84 perché comincia a introdurre ciò che ci serve per domani abbiamo visto un sistema informativo è una cosa cominciamo a immaginarcela come abbastanza complicata perché deve tenere conto di tante esigenze e ciò che impareremo è che deve essere vista può essere vista da più punti di vista diversi quindi la modellazione perché non c'è un modo di scrivere il sistema informativo ma ce ne sono tanti perché in ciascuno aspetto vedo cose diverse in un aspetto vedo i dati su cui sistema o le informazioni come vi ho imparato a chiamarle su cui sistema lavora da un altro aspetto vedo gli utenti del sistema chi sono cosa fanno dall'altro lato vedo l'interfaccia dall'altro lato vedo le prestazioni dall'altro lato vedo i costi dall'altro lato vedo l'infrastruttura tecnologica sono tutti viste diverse sullo stesso oggetto che ovviamente ogni tipo di vista si rappresenta in un modo diverso ha un suo linguaggio per poter essere espressa allora noi faremo una carrellata di queste viste alcune delle quali approfondiremo di più e parleremo dei modelli di sistemi informativi quindi modelli di sistemi informativi IS model sta per sta per indicare i modi con cui posso descrivere i vari aspetti del sistema informativo che non sono modi alternativi o lo faccio di così o lo faccio di così ma sono tutti modi diversi che nel loro insieme mi contribuiscono a definire come è fatto e che cosa fa quel sistema informativo e i tre tipi gruppi principali di modelli sono il modello funzionale il modello tecnologico IT model e il modello organizzativo il modello tecnologico quello che sta a destra ti dice quali sono i pezzi di cui ha fatto di quali tecnologie quali hardware quali reti quali software quali componenti fisici anche contando come fisico anche il software compongono il sistema ok è ciò che per dire puoi pesare puoi mettere in una distinta base il sistema è fatto di questi pezzi che poi si integrano parlano tra di loro in questo modo l'aspetto tecnologico noi in questo corso cercheremo di capire a linee generali come è fatto questo aspetto tecnologico ma poi non ci occuperemo di progettarlo ok poi c'è il modello funzionale il modello funzionale è che cosa fa il sistema le funzioni che questo svolge noi adotteremo molto il punto di vista funzionale non mi importa tanto come fa una cosa ma mi importa che la faccia o che non la faccia che un'azione venga compiuta o no che una statistica sia calcolata oppure non sia calcolata che la fattura venga spedita con l'IVA calcolata giusta oppure no quindi l'aspetto funzionale è per noi l'aspetto principale insieme ad altre caratteristiche non funzionali che sono più parte del modello tecnologico ad esempio le prestazioni o i costi se ho conto una funzionalità si funziona ma ci mette 6 ore a calcolare quella cosa il fatto che ci mette 6 ore dipende dalla tecnologia che hai il fatto che lo calcoli o non lo calcoli è un aspetto di tipo funzionale che cosa fa non come lo fa sono due aspetti diversi e poi c'è il modello organizzativo che ha a che fare con il livello in cui organizzativo aziendale in cui il sistema informativo si inserisce noi parleremo di sistemi informativi manageriali o decisionali rispetto ai sistemi informativi operativi che sono quelli che invece gestiscono gli aspetti più legati alla produzione al day to day eccetera quindi questo è una se vogliamo questo ragnetto qua è l'inizio di una tassonomia in cui andremo poi a analizzare nei vari rami che cosa c'è che tipo di descrizione ci sono ecco il primo approccio che voglio darvi che è un po' diverso dall'ordine delle slide per questo saltato è per primo l'approccio funzionale cioè cosa vuol dire descrivere ad alto livello il macro le macro descrizioni principali l'aspetto funzionale di un sistema informativo e qui lo abbiamo diviso in tre sotto tipi di modelli i modelli di processo i modelli dei dati e i modelli di funzionamento che abbiamo chiamato qua casi d'uso questi sono tre diciamo dei grossi capitoli del corso e tre tipologie di dei diagrammi no dei modelli che impareremo a costruire in modo funzionale innanzitutto si chiede quali sono le informazioni che il sistema gestisce dalla frase precedente cancellate innanzitutto per favore da quella che ho appena detto perché non esiste in realtà uno che viene prima degli altri si rincorrono la coda i vari modelli tra di loro devono essere coerenti non è che posso fare prima uno e poi quello è chiuso e faccio volevo dire forse il pilastro su cui si reggono gli altri tipi di modelli è quello informativo quello dei dati dei concetti delle informazioni alla fine il sistema informativo deve elaborare informazioni come prima cosa scusate mi hanno scappato il prima ma prima nel senso il più importante devo capire quali sono queste informazioni su queste informazioni devo definire dei processi avere le informazioni lì ferme sul tavolo non mi serve a niente io ho queste informazioni sul fatto che mi è arrivato un ordine benissimo il sistema informativo lo sa l'ha messo a qui questa informazione ma se questa informazione sta lì non serve a niente a livello aziendale l'importante è che questa informazione che è arrivato un nuovo ordine sblocchi un processo per cui qualcuno quell'ordine lo prende vede le materie prime se no fa a sua volta gli ordini vede com'è la mia scaletta di produzione quindi con lo scheduling trova qual è il momento migliore il luogo migliore in cui realizzarlo si fa una stima della data di consegna una stima dei costi eccetera eccetera cioè il fatto che ci sia un'informazione nel sistema informativo deve scatenare una serie di azioni in un certo ordine non a casaccio questi sono i processi quindi impareremo un pochino l'avete fatto dal punto di vista dei processi aziendali noi lo faremo dal punto di vista dei processi informatici che stanno che si intersecano con questi processi aziendali descrivere come sono organizzati questi processi cosa hanno fatto prima cosa hanno fatto dopo quali sono gli input che arrivano a un certo punto quali sono gli output che vengono girati in un altro momento e quindi quali sono quelle che prima dicevamo gli scambi di informazione tra questi moduli tra i moduli del sistema informativo questi processi poi vengono concretizzati cioè non è che io ho detto prendo i dati che erano per me le informazioni sull'ordine che erano questa bellissima spugna lo guardo e poi decido allora l'informazione e la spugna perdono l'ordine sapere che al ricevere un ordine scattere una certa serie di attività è il processo ma poi materialmente io non è che posso guardare dentro il computer per sapere se c'è un ordine ho bisogno di banalizzo videate schermate di interfacce su cui vederle queste informazioni interfacce che siano pensate in funzione delle informazioni che mi servono in funzione del processo con il quale devo gestire e quindi un sistema informativo permette agli utenti del sistema informativo stesso di fare tante cose noi descriveremo le cose che il sistema informativo lasciatemi usare questo termine cose non molto preciso perché poi avremo tempo di definirlo meglio le cose che il sistema informativo può fare le descriveremo come tipi diversi di interazioni di casi d'uso diversi cominciamo a usare questo termine che gli utenti del sistema possono fare nei confronti del sistema stesso cioè il sistema è lo stesso però un conto io mi collego che ne so all'onbanking per vedere il saldo e faccio certe azioni vado in certi menu clicco certi bottoni un conto è se mi collego all'onbanking sempre lo stesso sistema per fare un bonifico farò cose diverse noi descriveremo come casi d'uso diversi cioè sequenze di interazioni nei quali il sistema supporta l'utente nello svolgere certi compiti compiti svolti dall'utente che ovviamente o sperabilmente fanno parte di qualche processo cioè lo fa per un motivo e lavorano sulle informazioni che il sistema gestisce quindi questi tre modelli si intersecano tra di loro quali sono le informazioni quali sono le sequenze di azioni con cui queste informazioni evolvono e quali sono le azioni che il sistema informativo offre all'utente affinché l'utente possa eseguire i vari passi di questo processo questo è in estrema sintesi allora noi quello che cominceremo a fare da domani perché oggi il tempo è quasi scaduto sarà di iniziare ad affrontare innanzitutto una visione molto generale della rappresentazione grafiche che si usano in questi casi ma poi soprattutto entrare nel campo della modellazione delle informazioni che è quello che chiameremo modellazione concettuale su cui avremo l'esercizazione in laboratorio la settimana prossima per ora grazie 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 grazie